Stiamo per vedere, è successo pochi minuti fa, un leak di 20 secondi, un video insider, di un insider, qualcuno che evidentemente non doveva farlo uscire, di Elden Ring. Probabilmente è una build anziana, probabilmente è qualcosa di molto vecchio, da quel che vedo dalle immagini probabilmente è alfa, ora vi faccio vedere. Probabilmente questo è alfa, questo è alfa di brutto, lo spero per loro. Allora, ecco qua, diciamo che c'è una profondità di campo, c'è una definizione presa poco nulla qui, dei merli della torre o delle strutture di legno utilizzate per proteggere quelli che sono stati evidentemente... distrutti da qualche vento. C'è evidentemente anche un animale in volo, un volatile, o una creatura non conosciuta dalla nostra specie, magari una piccola viverna o qualcosa del genere, e soprattutto, quello che veramente non mi aspettavo di vedere così, c'è una bussola. C'è una bussola con obiettivi, che erano stati discussi come aggiunti all'interno di Elden Ring, essendo open world, però, wow. Vediamo un po'. Wow. Questo, questo, questo non doveva farlo vedere il tipo. Questo è palesemente, tra l'altro, non il gameplay... questo non è il gameplay che hanno mostrato di 17 minuti. Questo è palesemente qualcuno che ha preso l'alpha o la versione di prova dell'ufficio e ha registrato 20 secondi, non dovendolo fare. Accidenti. Tra l'altro, questa zona mi sembra moltissimo quella che era stata mostrata in stealth durante il trailer liccato, quello veramente di anni fa. Ma no, non lo è, non lo è, troppa, troppa pietra. Qui si può veramente, veramente, lavorare di trigonometria per capire le parti della mappa dove si trovano e perché, eh. Perché, intendo dire, rispetto alle altre dove si posizionano nelle altre inquadrature e scene di combattimento. C'è un cavallo, c'è, 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 c'è un, questo è un cavaliere. Probabilmente un nemico in ronda o in libertà che puoi affrontare liberamente. Da solo, però. Strano, non è una delle carovane. Sì, sì, questo è il salto. Quanto non doveva far vedere sta roba, sto ragazzo. Cosa c'è lì dietro? Qui c'è un... Una struttura importante. Salto che puoi fare assolutamente anche solo camminando. Questo è uno dei due alberi dorati che si vedeva nelle altre mappe mostrate in background. Nelle altre schermate, più che mappe. Mentre questa sequenza di rovine è stata vista più volte all'interno delle panoramiche. Questa è veramente anziana come struttura... Cioè, come versione, secondo me. Finita? La cosa peggiore è che solo per questi 20 secondi adesso succederà un casino. Che palle... C'è un cane alla fine? Beh, qua si può andare a cercare molto. Per esempio, questa struttura qua in fondo potrebbe essere... Questa. Una versione simile. Eh no, adesso succede un casino perché Bandai e Namco from Software dovranno proteggere di nuovo le informazioni. Ci sarà meno comunicazione. Potrebbero rimandare eventi, potrebbero rimandare trailer. Queste cose sono sempre pericolosissime, ragazzi. Perché tutti vanno in paranoia e specialmente in Giappone non vengono tollerate queste... Hanno sempre delle conseguenze molto oleose. Cioè, come una melma che avanza lenta prima di assestarsi. Quindi è un peccato. Cioè, non ne valeva la pena. Eh sì, 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 c'è un... Un animale. Eccolo qua. Un piccolo lupo, sembra. Un uomo. Un cervo. Un cervo. Vabbè. Ok. Però abbiamo... La bussola runica, tra l'altro. Ok. Abbiano, pare che il leak sia della versione Xbox One. quindi della console meno potente e performante del mondo attualmente, di ottava generazione e si vede perché è veramente vicino all'inguardabile sotto alcuni punti di vista quindi forse potrebbe trattarsi, e sarebbe un peccato perché certe cose sono veramente brutte di non una versione anziana ma di una piattaforma terribile questo è proprio il limite del cross-genning perché la Xbox One porca vacca ah beh no, insomma inaccettabile fino a un certo punto se andate a vedere la situazione dei giochi Xbox One cross-gen volete giocare Cyberpunk su Xbox One? purtroppo il fatto è che secondo me devono comunque lavorarci un po' ma se putacaso questo comporta che lo fanno girare ad alto framerate anche su Xbox One è uno scambio che farei immediatamente non magari la chat a volte è più pungente capricciosa quando si sta parlando di grafica ma io vedo delle brutture ma c'è molto molto di peggio molto di peggio in realtà la cosa veramente brutta è questa qui queste torri perché sembrano incomplete a causa forse della profondità dei campi l'animazione del salto non è bellina però è funzionale lo accetterei lo accetterei dinanzi al meccanismo arcade alla Dark Souls preferisco avere immediatezza d'uso piuttosto che Drake ok? piuttosto che altri titoli non Naughty Dog dalle animazioni ma Assassin's Creed però la cambierei un pochino il fatto è che se gli dai più tempo il fatto è che il salto il salto è sarebbe un peccato se richiedesse troppo tempo per fare l'animazione molto realistica se dovesse chinarsi se dovesse saltare mentre alla Sekiro invece ci sta molto di più solo che Sekiro saltava talmente tanto che con il rampino lo vedevi meno e non ti dava fastidio questo è un salto invece da quasi fermo che fa hop hop tipo coniglietto e non è bellissimo ma preferisco questo piuttosto che il motion capture di Dark Souls 2 per esempio bisogna vedere però se lo lasciano così io qualcosina ci farei qualcosina ci farei esatto è un saltello arcade ma funzionale bello bello non è bello ma è uno scambio che farei chissà che cosa succede se provi a muoverti in questa palloda esatto l'animazione realistica romperebbe la velocità arcade esattamente quello che ho detto è esattamente quello che ho detto si su next gen sono abbastanza ragazzi se su nonna generazione non va a 1440p vabbè che 1440p è un po' un po' cornuto su questa generazione però 60 ovvio che va a 60 per carità si si no anche il modo di voltarsi ha la DS1 ma ci mancherebbe altro onestamente ci mancherebbe altro è esatto il 1440p non è supportato da PS5 ma gesù santo sony anche in futuro un pensierino faccelo capisco il perché non lo facciano non sono d'accordo si può creare un sistema di super sampling se proprio e qui c'è un'altra struttura che figata ecco questa è una cosa che mi fa venire il batticuore questa è una cosa che mi fa venire il batticuore e infatti la PS4 prova il super sampling spot on e c'è anche musica di sottofondo esatto cioè vedere quel dungeon così sarebbe la prima volta sarebbe veramente la prima volta che c'è una musica ambientale in un Souls sì le aquile si possono sicuramente uccidere perché c'è la caccia lo so non so come si interfaccia non so come funziona ma c'è la caccia comunque da questo non si può carpire più di tanto ma unito agli altri trailer anche solo questo giro di telecamera ti apre mezz'ora di video ti apre mezz'ora di video vi assicuro che lo fa e ci saranno ci saranno quello che posso dirvi è che un giorno mi piacerebbe fare a costo di rimandare all'anima oscura un video compendio di tutto ciò che si sa su Dark Souls su Elden Ring e farlo veramente bene potrebbe potrebbe veramente uscire fuori una bomba perché c'è veramente tantissimo di detto e non detto ma soprattutto di ricercato speculato e scoperto dalla community internazionale e da quello che può essere invece il mio contributo personale il fatto è se volessi farlo entro dicembre l'anima oscura 3 si attacca al salto però questo tipo di risoluzione e definizione l'ho già vista spesso su PS4 e Xbox One soprattutto negli ultimi tempi se andate su Digital Foundry e guardate qualche comparison di titoli recenti o di quello che succede in open world end gen sull'inizio della generazione è una situazione abbastanza drammatica però noi non siamo il target di questo se noi ci trovassimo dinanzi a questo su PC lì diventa inaccettabile a livello tecnico poi si può parlare del videogioco come sarà dell'art direction ed è la bomba che probabilmente è effettivamente una cosa che non dico possiamo dare per scontata ma possiamo aspettarci visto il pedigree di front software Dark Souls Bloodborne Sekiro e The Learning quindi insomma però a livello tecnico se uscisse così su PC cosa che non credo sia il caso lì si che batti i piedi e fai ragazzi questo è inaccettabile che la gente pubblico di massa di una certa categoria si aspettasse da Elden Ring la grafica di Demon's Souls Remake è un altro discorso completamente quelli sono fuori strada a dir poco ma è naturale che il pubblico che non sa di cosa parla e non è assolutamente una cosa colpevole se non straparla si aspettasse qualcosa di più perché non sanno da quanto è in sviluppo 2017 forse già da un po' cioè ragazzi è cioè 2016 onestamente però Elden Ring a vuia quindi ecco però vedremo vedremo che voglia c'è un mondo come questo il fatto è questo da una parte se vediamo i vari trailer Elden Ring il mondo che ha mostrato attraverso gli scorci è di una bellezza soverchiante è stupefacente da vedere è stupefacente questo gli toglie molta bellezza lo appiattisce lo imbruttisce però mi rendo conto di una cosa e ve la dico con un po' di romanticismo se questa fosse la situazione Xbox One non è qualcosa che accetterei davvero di giocare da trentenne alla mia età e nel mio lavoro ma voglio vedere se c'è riscontro in chat mi ricorderebbe tantissimo quanto ho videogiocato anche con profondità di campo texture e frame rate molto più bassi da piccino quando non avevi magari la possibilità di comprarti certe cose quando non ci facevi caso io ho giocato a Skyrim su Playstation 3 io ho giocato a Oblivion su un pc il ciclo faceva girare a 1024x768 a 20 fotogrammi al secondo tutto al minimo e ci ho giocato 360 ore su Oblivion 360 ore su Oblivion 1024x768 tutto al minimo tutto al minimo quindi quindi da una parte mi fa pensare a quanto i nostri standard sono saliti crescendo e attraverso la possibilità di investire tutto ciò che si ha in una singola passione quindi mi rendo conto che questo ha un certo tipo di pubblico che sta crescendo che si accetta o adatta a quello che può disporre in dato momento sarà anche perfetto ma attenzione deve essere solo sulla base della old gen ma deve esserne anche poi criticato se esce così perché da una parte non riesco come non riuscivo e non riuscirò mai in nessun cross gen a dare troppo la colpa a lo sviluppatore perché si trova in una situazione disgustosa in questa in questa parte in questo momento della storia del videogioco d'altro canto non importa ciò che accade importa ciò che arriva sul mercato nelle case no e quindi occhio e quindi occhio e no non può essere un fake elaborato no 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 assolutamente vedremo ne riparleremo buonanotte ragazzi buon riposo e alla prossima a presto ragazzi avremo modo di riparlarne assai a presto a presto